amiche amici di meme of sandoria bentornati sul nostro canale youtube per il post partita con le pagelle di crotone sandoria vinciamo all'uscita 1 a 0 in una partita che non resterà nella storia del calcio per i suoi contenuti tecnici abbastanza noiosa una prestazione senza particolari squilli ma la squadra ha fatto il suo dovere contro un crotone che sembra ormai evidentemente non crederci più la decide fabio quagliarella primo tempo veramente da sbadigli un secondo tempo in cui se non altro grazie anche a un gentile regalo di luperto gabbiadini fa una gran giocata serve a quagliarella l'undicesimo o meglio l'assist per l'undicesimo gol in stagione a questo punto scavalchiamo l'ellas che ieri ha perso manteniamo comunque sette punti di distacco dal sassuolo che invece sorpresa ha sbancato san siro grazie alla doppietta di raspadori però il calendario ci propone proprio sassuolo sandoria alla prossima sabato sera al mapei in questo modo potremmo puntando a vincere contro la squadra di de zerbi regalarci un finale di campionato in cui ci mancheranno le cinque partite contro roma inter spezia udinese e parma quindi forse a parte l'udinese tutte squadre che devono giocarsi qualcosa e quindi saranno ben motivate ma comunque proviamo a dare un senso a questo campionato che sta volgendo definitivamente verso il tranquillo e ranieri continuerà a puntare all'obiettivo dei 52 cioè doppiare il risultato del girone d'andata a questo punto direi ne mancano dieci da fare nelle ultime sei partite è un obiettivo alla portata di questa sandoria che colleziona il quarto clean sheet del suo campionato è la seconda partita che vinciamo 1 a 0 la prima in trasferta in questo caso appunto contro il crotone audero sei e mezzo e la sua prestazione serve perché al netto di una partita in cui il crotone raramente ha dato l'impressione di poterci inserire qualche dormitina ce la siamo fatta in difesa e audero è stato solido nel primo tempo nel bloccare i tiri da fuori non particolarmente angolati da parte degli attaccanti di cosmi è stato decisivo nel finale quando la partita la sandoria provava ad addormentarla ma l'atteggiamento in campo di entrambe le squadre sembrava di una partita che aveva un divario più largo nel punteggio in realtà la partita era ancora decisamente aperta ed è stato decisivo audero nel respingere e deviare in calcio d'angolo e il tiro a botta sicura dal limite dell'area piccola di nuanco simi quindi decisivo sei e mezzo per il nostro portiere difesa c'era ferrari a fare il terzino destro è stato il peggiore dei nostri secondo me il difensore ex verona e bologna che da terzino destro l'abbiamo visto quest'anno un po di volte ed utile sicuramente sa fare sia quello sia il centrale che però credo rimanga la sua mansione preferita e principale ha sofferto l'uomo più pericoloso soprattutto nel primo tempo del crotone e cioè arcadius rezza che lo ha fatto ammonire ferrari anche nel palleggio abbiamo fatto fatica secondo me a impostare perché quando la palla passava dalle sue parti usciva un po sporca e quindi secondo me da 5 oggi la partita di ferrari la giocata da segnalare sua secondo me è stata nel secondo tempo quando gli è scappato messias che si stava lanciando verso audero lì ferrari è stato bravo a disturbarlo il minimo per non fargli controllare agilmente il pallone senza spendere un fallo che sarebbe stato devastante perché sarebbe stato secondo giallo rigore espulsione qualunque cosa bene invece tonelli il migliore a mio giudizio nella difesa veramente tranquillo pulito ha fatto anche il suo in impostazione con colle vicino è lui che deve provare a metterci un po più di pulizia nell'uscita del pallone dalla difesa 6 e mezzo per tonelli sarebbe da 6 e mezzo anche colli se non fosse per quel passaggio di esterno sinistro nel primo tempo che ha fatto sbottare cravero che non si spiegava questa soluzione cravero evidentemente al commento di da so comunque bene anche omar colli non è stato particolarmente impegnato c'era comunque un uancosimi che nel girone di ritorno per il crotone è stato un fattore quindi crotone sfiduciato sì ma il lavoro andava fatto in difesa e l'hanno fatto l'ha fatto anche tommaso augello meno partecipe in fase offensiva bene nel primo tempo perché ogni tanto pedro perera ha provato a stressarlo a puntarlo ea tagliarli alle spalle perfetto tommy che in questo girone di ritorno è un po più tranquillo più solido in fase difensiva l'abbiamo visto visto meno volte in affanno una partita da sei tranquilla anche la sua bene antonio candreva 6 e mezzo nel primo tempo ha provato a esibirsi nella versione tutto campista partendo da destra ma poi tagliando nella parte opposta in orizzontale del campo per provare un po a mettere dubbi nella difesa del crotone che nel primo tempo in realtà ci ha controllato agevolmente era un 4 4 1 1 troppo scolastico troppo scritto facilmente leggibile quello della samp con ianto a sinistra che correva sul binario e andreva provato a mettere un po di imprevedibilità bene torsby che come sottolineato dai cronisti tra l'altro segnalo riccardo mancini di da sono uno dei migliori secondo me veramente bravo ha vinto tutti i duelli aeree o tanti duelli aeree con simi che è ben più alto di lui e oggi l'ho visto un po più evoluto in fase di palleggio si è preso qualche responsabilità in più bene anche silva 6 e mezzo anche per lui partita dai ritmi che erano gli erano congeniali si è preso i suoi spazi in mezzo al campo ha diretto le operazioni piacerebbe vederlo più spesso così anche perché questa è stata una delle rare occasioni in cui cambiando completamente rispetto al copione della partita ad andata in cui era il crotone di stroppa che amava fare la partita e come abbiamo sentito dal commento all'andata fu la partita del crotone con il maggiore la maggiore percentuale di possesso palla di tutta la sua stagione in questo ritorno il crotone invece ha cambiato modo di giocare con con cosmi quindi il possesso era roba della sandoria che si è trovata a dover fare la partita è ancora una condizione in cui secondo me la sandoria di ranieri non si trova completamente a suo agio la vedo un po in imbarazzo quando deve impostare l'azione con la squadra avversaria che aspetta con il blocco basso come dicono quelli tecnici chiudiamo il tracampo con jacu bianco prestazione da sei nel primo tempo abbastanza oscura e opaca anche se non mi è dispiaciuto nel senso che ha provato a piazzare qualche scatto qualche azione è andato anche vicino al gol nel primo tempo con la solita conclusione a chiudere l'azione da dentro l'area da sinistra con la botta forte che valsa il gol per esempio contro il verona gli ha cambiato la posizione nel secondo tempo ranieri che è bravo a modificare le partite lo fa spesso spesso ci capita di vedere il cambio modulo nell'intervallo magari restando anche con gli stessi uomini a seconda di come sta andando la partita e anche del punteggio evidentemente ha spostato ianto mettendolo in questa posizione ibrida dire trequartista forse un azzardo visto che non ce lo vedo ianto ma comunque chiamiamolo assaltatore senza palla ha messo qualche pensiero in più alla difesa del crotone che soprattutto in avvio del primo tempo ci ha messo un po per provare a limitare la sap gabbiadini 6 e mezzo anche lui un po con i suoi ritmi un po delle pause se le prese ma quando si accende quando si attiva quando cambia ritmo quando riesce ad armare il suo sinistro è fondamentale per questa squadra la giocata certo è un regalo di luperto ma lui è bravo a crederci a mettere la gamba a rubare questo pallone tenerlo in campo e disegnare un arcobaleno molto bello per il gol di fabio quagliarella quindi gabbiadini 6 e mezzo 6 per quagliarella che ho visto ispirato anche bene quando si è allargato un po di più a sinistra nella nuova disposizione del secondo tempo della samp qualche palla persa di troppo forse ha avuto qualche occasione in più l'avrebbe potuta forse concretizzare però l'importante è che si sia trovato nel posto giusto al momento giusto per il gol che ha deciso questa partita bello molto bello anche il tunnel su molina nel secondo tempo sempre mentre galleggiava vicino alla linea laterale della fronte d'attacco di sinistra della sandoria dalle parti delle panchine cambi che sono arrivati molto molto tardivi e quindi non hanno avuto modo di incidere segnala un michael damsgard entrato secondo me in modalità gitta turistica ma insomma non saremmo certo qui a buttargli la croce addosso lui che ita e le ri non hanno avuto modo di incidere dicevo appunto finale di partita in cui la sandoria era già convinta di averla portata a casa quando in realtà si è vero il crotone non sembrava neanche crederci particolarmente una squadra sfiduciata oltre che con valori tecnici come dice la classifica non particolarmente esaltanti però abbiamo rischiato anche di prendere il pareggio sarebbe stato insomma una cosa veramente brutta brutta non avrei voluto commentare ecco quindi direi un 6 e mezzo a ranieri perché continua a condurre in porto senza problemi questa nave forse non ci farà vedere il calcio di croif però sta ampiamente facendo quello che ci si aspettava in questo campionato quindi bene così a questo punto il finale di campionato certo non parleremo di europa ma può avere un senso abbiamo degli obiettivi ed è una sandoria nel girone di ritorno che si sta comportando meglio degli anni scorsi quando sapevamo bene che una volta stabilito che gli obiettivi non c'erano si tiravano un po i remi in barca grazie mille a tutti di essere arrivati fino a qui aspetto come sempre i vostri commenti e tra l'altro vi ringrazio anche per il supporto a nome di tutti quelli che lavorano a questa pagina sul profilo instagram che come sapete ha avuto dei problemi continuate intanto a seguirci sulla pagina alternativa quella vivaio meme of sandoria nel frattempo è quella la nostra voce ufficiale insieme ovviamente a questo canale youtube grazie a tutti ciao